C'è un nuovo acquisto per la Pistoiese. La società arancione ha infatti prelevato in prestito dalla Fiorentina il centrocampista Jacopo Petriccione, classe 1995, nell'ultima stagione capitano della formazione Primavera Viola. Prima di arrivare a Firenze, Petriccione aveva giocato nella stessa categoria, ma a Siena. Il giocatore che ha svolto la preparazione con la prima squadra, allenata da Paolo Sosa, si è già messo a disposizione di mister Massimiliano Alvini e giovedì debutterà in arancione nell'Amichevole in programma alle 17 allo stadio Marcello Melani contro il Gavorrano, formazione che milita nel campionato di Serie D.